Annullati tutti gli eventi in piazza nei quartieri per Capodanno a Firenze. Lo ha annunciato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine della seduta del Consiglio Metropolitano. Stamani ha riunito la Task Force sull'emergenza Covid per Comune e Città Metropolitana di Firenze. C'è stato un confronto con gli esperti del Servizio di Igiene Pubblica e della Società della Salute e con i responsabili dell'ASL e il Presidente della Regione, Gianni. Una decisione certamente sofferta, anche se il concertone era già stato escluso. Ma c'è di più. Il sindaco ha annunciato che sarà prorogata l'ordinanza relativa alle mascherine obbligatorie all'aperto tutti i giorni fino all'8 gennaio, Befana compresa. Nessun allarmismo, certo, ma la situazione Covid preoccupa di giorno in giorno. Il quadro del contagio in questi ultimi tre giorni presenta una curva di aumento esponenziale Proprio per questi dati si impone un atteggiamento di massima cautela e di massima prudenza. Nardella rivolge così un appello accurato a tutti i fiorentini a ridurre il più possibile feste natalizie con grandi numeri di partecipanti, a mantenere regole di prudenza, ad esempio indossando le mascherine, possibilmente FFP2.